Quattro sere all'insegna del Mood Irpinia, terra che accoglie, delizia e dalle sue radici prova a creare sviluppo. Musica e talk, mostre e cibo d'alta qualità nella quattro giorni del Festival dell'Enogastronomia che si svolge nel capoluogo irpino. Quest'anno nel segno delle rimanenze è il tema prescelto sia a tavola dove gli avanzi non vanno buttati ma riutilizzati, come insegnavano le nonne, sia nella capacità delle persone di restare e aggiungere valore al proprio territorio. Delle novità della settima edizione che si svolgerà nelle sale monumentali dell'ex carcere borbonico, ci ha parlato lo chef e direttore artistico Mirko Balzano. Il tema di quest'anno sono le rimanenze, viste dal punto di vista sia di food, quindi di cibo, rimanenze che di solito potrebbero diventare scarti ma noi cerchiamo sempre di evitarlo e rimanenze come persone che restano, rimangono nel luogo di nascita. Ci sono persone che arrivano, ovvero gli chef da tutta Italia? Sì, sì, gli chef saranno 60 divisi in quattro serate, arriveranno da tutta Italia, dalle Marche, dalla Puglia, dall'Abruzzo, sempre però legati al tema delle rimanenze perché gli chef che vengono sono nati e fanno la loro attività nel luogo proprio di appartenenza. Sarà possibile attraversare le sale del museo, godere delle mostre che ci sono, della musica e ovviamente assaggiare delle prelibatezze? Assolutamente sì, il carcere borbonico sarà aperto a titolo gratuito, l'ingresso non si vaga assolutamente, quindi si può anche venire soltanto ad ascoltare la musica perché faremo concerti e ci sarà la possibilità di visionare una mostra all'interno del Museo Irpino. Nel caso in cui dovessero esserci delle rimanenze, che cosa accade? Parlo del cibo. Nel caso in cui ci sono rimanenze c'è un'applicazione che ci supporta che si chiama Too Good To Go, quindi troppo buono per andare via, per essere buttato e tutte le rimanenze dell'evento andranno alle persone più bisognose.